All'interno di DaVinci ci sono tipologie diverse di contrasto, ce ne sono alcuni che sono presenti nella versione gratuita, alcuni che sono solo presenti nella versione a pagamento e dei sistemi per crearsi delle strutture di nodi custom che fanno da maschera di contrasto. Oggi guardiamo queste tre diverse tipologie di contrasto dentro DaVinci. Abbiamo una clip di una ragazza che ho preso da un progetto che ho girato io per la North Face. Questa è una buona base per vedere come funziona il contrasto perché la maggior parte delle volte il contrasto va valutato sul viso. Andiamo a vedere i tool di base che sono già presenti in DaVinci gratuito. Il primo tool si chiama banalmente contrasto, si trova nelle primary wheels ed è un contrasto ad S. Adesso provo ad aggiungerlo, vedete che l'immagine si allarga, nel senso che i neri vanno verso il nero, i bianchi vanno verso il bianco. Se invece lo tolgo l'immagine si appiattisce. Se vogliamo vedere come funziona questa curva possiamo aprire un gradiente, questo qua è un gradiente lineare che va dal lato sinistro dal nero pieno e dal lato destro dal bianco pieno. Come potete vedere dallo scope è una semplice linea. Se io vado ad aggiungere il contrasto posso vedere la S del contrasto che si forma all'interno del gradiente. Se lo tolgo si appiattisce, se aggiungo il contrasto si crea la S. Questo qua è il primo tool, è un tool per rifinire l'immagine, non è un tool che io utilizzerei per creare un look perché è molto grezzo, è molto ampio e serve più che altro per gestire il contrasto preesistente nella camera. Quindi io consiglio a tutti di usarlo molto con cautela. Il secondo tool si chiama Midton Detail, è sempre nelle Color Wheels e lo troviamo qua alla fine. Invece di fare una S generale nell'immagine, quindi invece di portare tutto il nero e tutto il bianco verso gli estremi, quello che fa è trovare delle parti in cui l'immagine ha attaccate una parte più chiara e una parte più scura. Per esempio potrebbe essere il naso, questa parte qua, e va a accentuare la differenza tra la parte scura e la parte chiara. Se lo vediamo in azione, vediamo esagerandolo, che porta fuori proprio il dettaglio nei Midton, cosa vuol dire? Il dettaglio nei toni medi. Quindi andiamo a vedere più da vicino, si accentuano i dettagli dell'immagine. Se vado nel lato opposto invece li tolgo. Il terzo tool è il contrasto molto fine che si chiama Sharpening e serve a rendere più precisa, più cristallina l'immagine. Lo troviamo in questa finestra qua, in questo tab. Il secondo tool del tab si chiama Sharpen e funziona da radius andando verso il basso. Quindi se io vado da 0,50 a 0 vedete cosa succede all'immagine, che si crea questo contrasto nei dettagli molto fini. Per esperienza lo Sharpening va usato molto delicatamente. Il mio punto di partenza, quello che mi piace di più, è 0,48, che dà proprio una piccolissima nota di precisione aggiuntiva ed è generalmente quella che basta. Se si aumenta di più l'effetto diventa apparente e non è più bello. Ora andiamo a crearci una struttura per gestire la maschera di contrasto, che possiamo salvarci nei preset e averla pronta per i prossimi lavori. Resettiamo il nodo. Intanto andiamo a vedere come funziona la maschera di contrasto. Io ho un nodo, mi creo un nodo parallelo, alt-p, cancello il parallel mixer che ho qua e ne creo uno nuovo, destro, add node, creo un layer mixer. Collego i due layer e mi collego al finale. Ora cambio la modalità di compositing in subtract. Cosa sto facendo? Io sto sottraendo l'immagine a se stessa. Ogni pixel è formato da una serie di valori numerici. Se io sottraggo un pixel con se stesso, tutti i valori vanno a zero. E quindi io ottengo una schermata nera. Cosa succede però se io a uno dei due layer aggiungo una sfocatura? Vado a prendermi il Gaussian Blur, che c'è anche nella versione gratuita. Lo porto su uno dei due nodi. Il Gaussian Blur parte già da 0.4. Come vedete non è più completamente nero. Ci sono delle differenze. Se tolgo completamente il Blur, le differenze spariscono. Poi più aumento queste differenze, più vedo che incomincio ad apparire del dettaglio all'interno dell'immagine. Perché questa cosa? Perché io omogeneizzo le parti dell'immagine. Si sfocano, le curve diventano più morbide e quindi sottraendo l'immagine con se stessa ottengo solamente il dettaglio. Quindi un layer che è formato solo dal micro dettaglio dell'immagine. Io questo ragionamento lo posso sfruttare per riaggiungere il dettaglio della clip a se stessa e quindi amplificare il dettaglio già esistente. Adesso vi mostro esattamente come si fa la maschera di contrasto. Quindi resettiamo. Abbiamo il nodo di partenza che rimane pulito. Ne creo uno successivo, Alt S. E su questo creo un parallelo. Ok. Me li sposto un po' più in basso. Cancello il parallel mixer e aggiungo un layer mixer. Mescolo i due livelli. Questo layer mixer lo collego alla fine per il momento. E col destro vado a cambiare il composite mode che sono le modalità di fusione delle immagini. E se non sono familiari vi consiglio di andare a vedere come funzionano. Comunque sono tutte delle modalità matematiche di somma dei pixel. Quello che ci interessa a noi è Overlay. Overlay prende il punto di grigio medio 0,50 come base. Gli dà una trasparenza completa. Quindi il grigio medio scompare. Tutto quello che va su va verso il bianco e tutto quello che va verso il nero lo somma all'altra immagine. Con opacità diverse che vanno dallo 0 se la luminosità è grigio medio al 100% se è bianco completo o nero completo. Adesso ho sostanzialmente il video sommato su se stesso. Ora prendo il nodo superiore dei due paralleli. Vado come prima cosa nell'RGB mixer che trovo qua sotto. Lo clicco e seleziono monochrome. Quindi io tolgo l'informazione di colore dall'effetto. Mi interessa solo la luminosità. Dopodiché vado sulle curve e inverto la linea delle curve. Quindi sostanzialmente inverto il bianco col nero e viceversa. Adesso vado su questa finestra e su Key Output dimezzo il Gain. Che è un modo per dimezzare l'opacità del nodo. Quindi metto 0.5 e ora ho sommato a se stesso l'inverso dell'immagine. A questo punto, a questo nodo, aggiungo il blur. Il Gaussian Blur lo troviamo gratuitamente, quindi usiamo questo. Adesso vedete cosa succede. Se io tolgo il Gaussian Blur sono sostanzialmente all'immagine di partenza. Man mano che lo aggiungo, appaiono dei dettagli e appare un contrasto con una maglia sempre più ampia. Più si va verso un contrasto alto. Se io disattivo tutto, vedete che ho creato questo contrasto interno molto più preciso, molto più vibrante del contrasto lineare semplice che troviamo nelle wheels. Per riferimento, tendenzialmente un buon numero da usare qua nel Gaussian Blur è 0.7 oppure 0.8. È il punto di inizio che va bene la maggior parte delle volte. Adesso però ho bisogno di un modo per gestirmi la quantità di questo effetto, perché tutti questi effetti non vanno mai usati al massimo, devono sempre essere tarati. Quindi con il layer mixer selezionato, premo Alt-S e creo un altro nodo. Dopodiché lo scollego dalla fine. Clicco col destro, Add Node e prendo un altro layer mixer. Questo layer mixer lo lascerò in modalità composita normale. Recupero l'immagine di partenza, la collego al layer mixer e lo collego alla fine. Adesso sostanzialmente ho due controlli in questa struttura. Da questo controllo, che rinomino, lo chiamo sfocatura, posso controllare la maglia di contrasto, quindi fare una maglia stretta o una maglia molto larga. Da questo nodo invece, che chiamo opacità, posso gestire la quantità di effetto che voglio inserire, usando il key output, quindi andando da 0, tutto questo sistema sparisce, e ho l'immagine originale, ha 1, che è tutto l'effetto presente. Anche qua, buona norma è non usarlo al massimo, metto 0.5, ed è un buon punto di partenza. Quindi, ricapitolando, sfocatura 0.7 o 0.8, opacità 0.5, e come vedete, disattivo e riattivo il tutto livello, ho ottenuto questa piccola giunta di contrasto medio, che rende l'immagine un po' più vibrante. Una volta che ho questo sistema qua, per non avere questa struttura presente nei nostri progetti, possiamo creare un compound node, quindi selezioniamo tutti i nodi. Clicchiamo col destro e clicchiamo Create Compound Node. Si crea un unico nodo, lo rinominiamo e lo chiamiamo Maschera di Contrasto. Adesso questo compound node è salvabile. Possiamo cliccare col destro, sull'immagine, selezionare Grab Steel, e ce l'avremo nella gallery. Come va usato, poi, io resetto in questo caso il progetto. Facciamo finta di avere una color già presente, quindi ho qua un balance, qua ho della saturazione. Voglio aggiungere il contrasto a questo nodo, io semplicemente me lo prendo e lo trascino sopra il nodo, e l'ho aggiunto al mio albero di color correction come un singolo nodo. Se ho bisogno di modificarlo, posso entrare nella struttura e gestire la quantità della soddisfocatura e posso gestire l'opacità. Volendo posso anche gestirla da qua, quindi posso anche avere all'interno l'opacità al massimo e qua come compound node avere il key out come slider di gestione dell'effetto in generale. Vediamo come fare questa cosa con due tool che sono presenti in DaVinci a pagamento. Resettiamo tutti i nodi e adesso cerchiamo negli effetti pop. Ci sono due effetti, il contrast pop e il texture pop. Partiamo dal contrast pop, che è sostanzialmente la stessa identica cosa che abbiamo fatto adesso con la maschera di contrasto. Quindi se io aggiungo la mount, vedete che mi aggiunge maschera di contrasto. Se cambio il detail size diventa molto larga o molto fina. Questo effetto si può usare, però può creare delle aberrazioni, quindi tendenzialmente non è il mio preferito. Comunque c'è già dentro. Il secondo invece serve sempre per regolare la quantità di dettaglio, però è utile da usare in modalità advanced. Quindi andiamo su operating mode, clicchiamo advanced e ci viene fuori questa serie di dettagli che vanno da il rough, quindi maglia molto larga. Mettiamola al massimo così lo vediamo. Maglia molto larga e poi un po' più fina. Sempre larga ma fina, media. Piccola, fine e tiny. Quindi sostanzialmente dalla più larga alla più fina. Come si usa questo effetto? Si cerca di fare una piccola C all'interno della serie di slider che abbiamo. Perché il contrasto sull'immagine è bello quando è a maglia larga e a maglia fina, mentre il contrasto medio tende ad accentuare i difetti della pelle, eccetera. Soprattutto sulle donne non si usa. Quindi com'è che si può usare questo effetto? Si aggiunge delicatamente un po' di contrasto rough e coarse, quindi quelli più ampi. Si toglie un po' dal medio e dallo small. Si aggiunge un po' nel fine e nel tiny. E quindi vedete che sostanzialmente il contrasto della pelle è stato rimappato completamente. Cioè la luminosità è molto più omogenea, però la texture della pelle rimane presente. Dopodiché questo effetto, come tutti gli altri, va sempre regolato e magari non lo mettiamo al massimo. Però cerchiamo di ottenere questa cosa, cerchiamo di ottenere questa morbidezza delle luci, mantenendo però il dettaglio molto fine. Per esempio i pori della pelle, eccetera. Questo contrasto può essere aggiunto a quello che abbiamo fatto prima, che è quello che faccio io di solito. Quindi copio la mia maschera di contrasto in un nodo precedente, così è originale, così con questi due tool esce fuori il contrasto, escono fuori i dettagli, eccetera. Quello che posso fare poi in aggiunta è farmi un ultimo nodo, che è lo sharpen, e aggiungere anche, su sharpening, un pelino di sharpening aggiuntivo. E quindi la mia immagine diventa così. Da originale, un po' più morbida, a più contrastata, un po' più precisa nei dettagli, però senza accentuare i difetti delle ombre, della pelle della modella. Se il tutorial vi è servito mettete un like e seguiteci per vedere i prossimi video che pubblicheremo. Grazie e buona giornata. Grazie a tutti.